Hello guys, I'm here. Come state? Oggi vi parlo in italiano e in particolare vi volevo mostrare questa tazza. Lui è da Roma, in questo caso non è in carta pesta ma si trova in una tazza rossa. Non so se sapete la storia della Roma, in questo caso ha un colore rosso, quindi rappresenta la protezione dalle avversità, ma può essere anche di tanti altri colori. È interessante, uno mi piace, anche se ha una faccia un po' bruttina con queste sopracciglie, però mi piace perché in qualche maniera è divertente e poi se ti porta fortuna, se ti protegge, non c'è bruttezza che tiene, no? E niente, vi volevo raccontare che ho iniziato una nuova sfida, ho chiamato questa sfida Sundoku Challenge, ovvero ho voluto trasformare la parola Sundoku in una parola positiva perché appunto significa andare a collezionare libri, libri, libri senza appunto poterli leggere, senza avere appunto quella cosa di mettersi appunto a leggere tutti i libri che uno compra. Diciamo che molte volte è solo un termine divertente che comunque indica il fatto di comprare libri o qualsiasi cosa uno voglia comprare, però poi si restano lì senza poter appunto leggerli. E niente, nel mio caso ho voluto fare una sfida, lanciare una sfida, una a me stessa e due a chi appunto avrà voglia di seguirmi, voglio di leggere un libro in dieci giorni. Non sono tantissimi, dieci giorni non sono neanche pochi, in quanto io lavoro, studio e anche faccio mille altre cose, quindi diciamo che è una bella sfida e spero che appunto da Roma mi faccia compagnia, mi protegga in questa sfida. E che altro? Volevo fare, volevo mostrare anche l'altro da Roma, in questo caso come la leggenda narra e come si usa appunto si dovrebbe colorare l'occhio sinistro ed esprimere un desiderio, una volta che si avvere il desiderio si colora l'altro occhio. In questo caso appunto mi protegge anche dai pensieri negativi, quindi ho sempre un da Roma che mi sta accanto e in questo caso questo rosso, quello nero, penso che collezionerò proprio a tutti e che dirvi. A presto, ciao e la prossima volta penso di parlare della mia passione per le lingue, l'italiano in primis, in secundis tutte le altre lingue, poco nel video precedente parlavo del Bangla che è la mia lingua nativa e basta. Magari ci sarà qualche altro video in qualche altra lingua, chissà, non si sa, vedremo. Intanto un saluto dal Daruma e a presto!